Assessore Stellato, per il secondo anno consecutivo una sfilata di moda all'interno del carcere femminile grazie anche al potrecino morale del comune di Pozzuolo? Io direi non semplicemente una sfilata ma un progetto molto più complesso, il cui scopo è quello di favorire l'inclusione sociale delle detenute, cioè il loro reinserimento. E' un atteggiamento di apertura che io ritengo molto importante perché in effetti una volta che queste donne hanno scontato la loro penna, si sono inserite in un corretto processo di rieducazione, devono tornare a pieno titolo nella società civile. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, saranno 20 ragazze che sfileranno grazie alla collaborazione di un stilista a livello nazionale. Sì, lo stilista in questione è Gianni Molaro che è un nome di eccellenza oramai per la haute couture napoletana italiana, ma quello che è più importante sottolineare è proprio lo slancio, l'amore con cui questi stilisti hanno inteso realizzare il progetto insieme a noi. Ovviamente il progetto nasce dall'iniziativa dell'Accademia di Anna Paparone, l'Accademia P&P, che ha già avviato i corsi di portamento e che ha visto degli ottimi risultati, in quanto due ragazze dell'anno scorso, del progetto dell'anno precedente, sono state inserite come modelle.